Finalmente anche a Verona è nato il Comitato Ambiente, Salute, Legalità. Difendi il rispetto di questi valori e contatta anche tu il 320 27 75 662 o scrivi a aslverona.gmail.com Sostieni anche tu i comitati per la conversione di Cadelbue nell'impianto a freddo. Smaltisci i rifiuti e dà un taglio alle bollette per un'aria pulita. Per la salute di Verona, per la tutela di questi cittadini veneti partecipa al corteo che partirà il 9 ottobre alle 14.30 dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova.